Villasmundo arrestato, pregiudicato e trovato in possesso di mezzo chilo di sostanza stupefacente. I carabinieri della liquido operativo della compagnia di Augusta hanno eseguito una perquisizione a casa di un pregiudicato 28enne di Villasmundo in quanto nei giorni scorsi durante i servizi di controllo del territorio hanno notato uno strano via vai di giovani assuntori a girarsi nei pressi della sua abitazione. Atteso il momento propizio e sfruttando il fattore sorpresa i militari hanno fatto ingresso ed eseguito la perquisizione durante la quale hanno trovato ben nascosti nei mobili dell'appartamento 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, 50 grammi della malesima sostanza e ulteriori 50 grammi di moravana confezionata in dosi nonché vario materiale per la pesatura e per il confezionamento dello stupefacente. La droga che al dettaglio avrebbe affruttato circa 5.000 euro è stata sequestrata per i successivi esami tossicologici. L'arrestato è stato posto ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria Aretosea.